Si porta dietro secondo me il fascino di una grande sfida, il fatto che comunque siamo primi a pari punti e che rispettiamo il Napoli e comunque la consideriamo una grande squadra, una grande realtà con grandi allenatori e grandi giocatori. Quindi come è stato Juve-Milan, come sarà Juve-Milan, Juve-Inter, Juve-Napoli, secondo me ormai si può giudicare una grande partita del campionato italiano, non deciderà lo scudetto se volete sapere quello perché è impossibile che possa decidere lo scudetto sia nell'altro dopo otto partite all'ottava giorno. Però sicuramente è una grande partita.